Amici siamo a Colpretto, da qua incomincia la discesa verso Malesco, non ho idea di come sia perché è la prima volta che la faccio. L'ambiente è veramente bello perché siamo in una faggetta molto bella, proviamo a guardarla assieme. Bella eh? Attenzione che in quell'area si vede il cartello che indica all'inizio della discesa, pericolo, il che significa che stiamo parlando di una discesa sicuramente molto tecnica. Adesso andiamo a vederla, poi vediamo alla fine com'è. Intanto vi saluto e vado un po' a divertirmi. Ciao, a dopo! Ciao, a tutti! 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 Buon day! Buon day! freeride puro qua il sentiero passa appena sopra adesso andiamo a ripescarlo a ripescarlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti